Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a questo nuovo video, oggi siamo su Omegle ragazzi Omegle è un sito, vabbè c'è anche con me Alessio Ciao Ok, mi ha aiutato con Outlast, lo ringrazio veramente tanto Oggi siamo su Omegle, Omegle è un sito dove praticamente potete parlare con persone strane Così totalmente, non sappiamo un cacchio di loro, non sappiamo nel nome, nel cognome, il codice fiscale, la data di nascita, neanche il nome del cane Cosa pensavate? E quindi ragazzi siamo su questo sito perché diciamo che è qualche giorno che sto cercando Favij, infatti questo episodio si chiama Alla ricerca di Favij, l'episodio 1 Quindi praticamente, vabbè, non lo cercheremo tutto l'anno, lo farò almeno una volta al mese E diciamo che in varie chat ho incontrato persone che si fingono dei fake di Favij E quindi diciamo che oggi volevo dare una dimostrazione, ho anche delle chat che farò vedere Vediamo la dimostrazione Però, piccola la premessa, un'altra premessa per iniziare Ci sono persone che sfruttano questo sito anche per altre cose che censurerò Dicono delle cose a caso Non è che dicono delle cose a caso Ci insurerò Quindi Partiamo con questo primo episodio e speriamo che vada bene Prima chat Ciao Perfetto La prima chat è andata da Dio Infatti non ho sentito un cazzo, non ho sentito Perfetto, fantastico, è partita a manetta proprio Mi devi scrivere il sospetto Ciao Almo, mamma mia Non si capisce niente Microfono Ce l'abbiamo Eh Almeno a trovarlo Favij È tutto il giorno che lo cerco Comunque saluto a tutto YouTube Se è su YouTube praticamente Vi saluto a tutti Dio che stai facendo un video Eh ma voglio appena detto che sto facendo un video Ah ok Bossa 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 Oh mio Dio Bossa Bossa Non sono Favij Eh Dici sei Favij Eh sì Sì sei favij Eh sì Stai facendo un video Sì Eh certo che sto facendo un video Guarda eh Diri di iscriversi al tuo canale Iscriver così Se vuoi prova a cercarmi Eeeh Insomma Sì intanto c'è la webcam che mi lagga Vabbè no tranquilla eh Vabbè se vuoi Se vuoi iscriviti Se vuoi se ti piacciono i miei video Vabbè Sono molto sdrogo Eeeh Buona fortuna alla ricerca di Favij Di niente Bella Mio Dio Eeeh Beh Mio la vuoi più iscritta almeno Ciao C'è qualcuno? Allora quando si dice che sono pronti Non era pronto Praticamente Prossima chat Ne è che il tempo di dire ciao Va bene Fantastico Bellissimo Ciao Ciao eh Oddio Non ti lascio neanche il Il tempo per parlare Possiamo guardarci in faccia tutto il giorno eh Possiamo ridere scherzare E andarcene con grande stile Però anche tagliate i capelli cambiato voce Eh Dicca se va a bj Però che tagliate i capelli cambiato voce Ha suonato a vivere da solo Ma bj ho capito Però basta Porca traia Ciao Che te è proprio la webcam che lagga proprio come non so che roba Ma sta bene Va bene Va bene ragazzi Qualcuno che me lo chiede cazzo oggi Il barabum Il tempo che mi arriva la chat È 19 Comunque saluta tutto a youtube che sei in video Se è proprio Ah Mi Ho fatto una faccia per dire Minchia che culo Mi saluto tutti se non si fosse notato dato dalla web Nice Intanto internet oggi lagga come non so che roba Peggio di Happy Wheels Ok auguri con la ricerca di Favij e Boh Magari ci becchiamo ancora dopo Vabbè Bella Ragazzi ma che cazzo ci beccano cioè Assurdo Nuova chat Luca diciamo Che se rifaremo Noi due Insieme Tu sei malato Tu Ciao Ciao C'è se avesse la webcam secondo me sta dicendo ma che cazzo è questa Questo vuole da me Sta bloccato sul ciao Si 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 era bloccato sul ciao Che non è il motorino eh Siamo chiari Andiamo avanti Ciao Ciao Yook Si Diciamo la sera che faremo noi insieme No dopo Hai i tuoi iscritti Si fatti Dopo dopo Che cazzo Eh non mi puoi mai esco Ok Ciao Almeno Almeno Sono FabiJ Almeno Si almeno è vero 800 e passa 1000 iscritti Porca tratta Invece non sono 29 Quasi 30 se mai Luke Cugino Eh Almeno Darei Darei tutti i soldi che ho per essere Almeno suo cugino Solo per vederlo Guarda un po' Sto cercando anche te Va bene Potevi rispondimi Si No Dammi almeno una risposta Non è che Cioè Ragazzi vi rendete conto Quanta gente mi scambia per FabiJ Almeno Va bene andiamo E hai vinto 10 E hai vinto 10 E hai vinto 10 Ciao Ciao Oh great Che rido Vi ridete Poi che avete visto un pagliaccio Se il pagliaccio sono io poi Non sei un pagliaccio nuco Non sei un pagliaccio nuco Non sei un pagliaccio nuco Ragazzi 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 Per sentirli Scusa se metti con il video Ragazzi Da quando vengono Provi Un po' Grazie Siamo poi scortesi tanto Cazze ne frego Intanto c'è solo un pirla che sta facendo un cazzo di video di merda Ciao Ciao Ma quando sei un po' Hai il microfono attivo E anche tu mi Mi dicono dalla regia che sei molto attivo Ma il corrisposto Perché c'ho Ma che c'ho la telecamera Ma minchia Invece no E ti rompe le scatole Ciao Aaaaa Che è sto spam Cosa ti è scritto Luke? Aaaaa Che cazzo Ti dici A Cosa ti è scritto? Aaaaa Luke La visuale era abbastanza suggestiva eh Devo dire No ma ha scritto Aaaaa Proprio a manetta Io ti stai facendo video Ne ho detti a due Sto facendo video Vediamo se un domani sarò a 31 Vediamo Ragazzi continuate a salire eh Mi piace Commento Iscrizione Ricordo sempre Poi ho anche un Oh bella Il mio youtube Ciao Si Certo Saluto tutto youtube che Proprio ti sta guardando proprio Eh Lo so Me lo dicono in molti Stessa faccia lo so Sei il gemello Sei il gemello Oh Favij Vabbè Oggi Oggi è la prima volta che mi becco la faccia di me Viva Favij Grande Grande Grandissimo La voce qua Eh lo so Eh lo so Si Eh Eh Vabbè Vabbè C'ho solo la voce che è quella proprio i capelli e tutta un'altra roba che lui ce li ha tipo la savana che ce li ha lunghi i chilometri Vabbè Vabbè Da quanto tempo stai cercando? Lo scrivo un anno Eh Minchia Quanti anni hai? Quanti anni hai? Ah vabbè Poca differenza eh Proprio C'è proprio dall'età della pietra proprio Da quanto lo cerca? 3.000 anni mamma mia 3.000 anni Sì quasi Piacere Piacere Quanti anni avrà? Quattro 3.000 anni Da quando ho appena nato vedi Favij No vj Luke quanti anni ha? Proprio ha rinato proprio tante volte Ma troppe eh C'è Cazzo Ha detto quanti anni ha? Ha detto Eh Tu chissà Mamma mia Vabbè Ci devo credere Proprio ci devo ci credo Metto anche in ginocchio Quanti anni ha? Metto anche in ginocchio va Ci credo ci credo Ci credo Luke oddio vai oddio si è staccato il dito peggio di outlast oddio si è staccato il dito lui peggio di outlast si è staccato il dito il nazareno mamma mia si è staccato il dito vabbè intanto saluta tutta youtube che sto facendo un video apposta apposta alla ricerca di favij mamma mia primo episodio è morto 3000 anni ha detto lui è gesù si è staccato il dito sai quel trucchetto del dito si si l'ho fatto bene la prima volta che mi esce bene il webcam lol vabbè io direi che facciamo un'ultima chat vediamo se non è veloce e poi direi di concludere a fancuo si sa un po' po' di merda eeeh niente mi ha baciato ciao stesso di prima stai ancora di prima poi via poi via poi via poi via ciao ciao c'è due volte c'è due volte c'è due volte vabbè i ragazzi incredibili grazie per l'iscrizione grazie mille non so se io quanti iscritti hai adesso se se magari intanto mi chiamano al cellulare a caso a random ok dopo vado a cercare appena finito sto video è finito di montarlo perchè non ce la farò mai entro domani entro domenica perchè tanto tutte le altre serie porca troia le uso ah vabbè va bene vabbè ti auguro ancora buona ricerca di Favij anche per me porca troia e ci vediamo e ciao quindi ragazzi con questo è tutto la ricerca di Favij oggi è stato un feo assurdo però c'è molti mi dicono Favij no no non sono Favij cioè neanche se mi metto neanche se mi metto in questa posizione sono Favij sapate che i capelli i capelli io ce l'ho in su lui ce l'ho in giù quindi ce liari c'è i Favij appunto e lo conosco il DCR Gaming e saprò com'è fatto saprò com'è fatto tanto c'ho caldo che cazzo te le comando il condizionatore ce l'ho qua piccola ti accendi per favore provo condizionatore si accende quindi ragazzi in questo video è tutto se vi è piaciuto il video come al solito lasciate un mi piace un commento e un'iscrizione adesso vado a vedere quanti iscritti c'ho vabbè Luca puoi aspettare anche un bel po' vabbè dai vale che cazzo stai dicendo lo so scusa vabbè noi ci vediamo con il prossimo video ciao a tutti ragazzi ciao ciao